A Ferragosto Equitalia congela le cartelle. Il provvedimento firmato dall'amministratore delegato Ernesto Maria Ruffini, che ha chiesto alle strutture della società di riscossione e quindi agli operatori postali di sospendere la notifica degli atti nei 14 giorni centrali di agosto, dall'8 al 22, riguarda in Puglia 12.513 atti che sarebbero dovuti essere notificati per posta, a cui aggiungere i 4.114 previsti con posta elettronica certificata, per un totale di 16.627 cartelle. Non sarà uno stop totale e non può esserlo, chiariscono da Equitalia, perché alcuni atti inderogabili, circa mille in Puglia, saranno comunque inviati. E una decisione si evidenzia senza precedenti nei dieci anni di vita della società, partecipata da Agenzia delle Entrate e da IMSS. A Bari e Provincia saranno fermate complessivamente 6.120 cartelle, così come a Lecce 3.936, a Foggia 2.421, a Taranto 2.521 ed infine Brindisi 1.628.